Per la notte di Capodanno unisci di a noi nella magia del G-Bodisco Club. Si parte con il Gran Buffet di Capodanno e musica italiana 70-80-90. E dalle 23.30 DJ Set per festeggiare il nuovo anno insieme. Reggaeton, house commerciale e party anni 90. G-Bodisco Club San Giorgio Ionico, 31 dicembre, il grande Capodanno. Prenota il tuo ingresso e partecipa a un fantastico contest. Info, tavoli e pre-vendite al 393 38 48 179. G-Bodisco Club San Giorgio Ionico e più di una disco. G-Bodisco Club San Giorgio Ionico, 31 dicembre, il grande Capodanno. G-Bodisco Club San Giorgio Ionico, 31 dicembre, il grande Capodanno. G-Bodisco Club San Giorgio Ionico, 31 dicembre, il grande Capodanno.